Salgono nuovamente i contagi da coronavirus in Italia. In 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute, si sono registrati 463 nuovi casi a fronte dei 347 di sabato scorso che fanno salire il totale a 250.566. Numero di vittime al minimo storico invece dall'inizio dell'epidemia. In 24 ore, secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono state soltanto due le persone morte in tutta Italia, un dato che non si registrava dal febbraio scorso. Sabato erano stati segnalati dal bollettino 13 molti. Complessivamente i decessi dall'inizio dell'epidemia sono 35.205. Sono giorni che i dati dei contagi ondulanti possono indurci a pensare che la situazione sfuga di mano, ma non è così. Non è in atto una recrudescenza a livello nazionale, ma diversi focolai ben contenuti e quanto ha spiegato su Facebook il viceministro Pierpaolo Sileri. Contenendo i focolai, facendoli restare piccoli e proseguendo con il senso di responsabilità che abbiamo sviluppato nel corso di questi mesi, proteggendo gli altri con la mascherina, distanziamento e igiene, la fase di rialzo del virus non sarà una seconda ondata per come l'abbiamo conosciuto a marzo, dice ancora Sileri. Sono quattro i nuovi positivi al coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria. È il dato contenuto nel bollettino della regione che porta il totale a 1.287 casi. Ad oggi nella regione sono stati effettuati 125.275 tamponi, di cui 123.988 risultati negativi. Territorialmente i casi positivi sono distribuiti in questo modo. Catanzaro 4 in reparto, 184 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 1 in reparto, 21 in isolamento domiciliare, 437 guariti e 34 deceduti. Reggio Calabria 2 in reparto, 13 in isolamento, 268 guariti e 19 deceduti. A Crotone 3 in isolamento domiciliare, 113 guariti e 6 deceduti. Vibo Valencia 3 in isolamento domiciliare, 82 guariti e 5 deceduti. Nei ricoveri segnalati nell'ospedale di Catanzaro 5 sono in malattie infettive. Due sono della provincia di Vibo Valencia, di cui una è ricoverata in malattie infettive successivamente al parto cesareo e uno è di fuori regione. Dei tre soggetti positivi rilevati dall'ASP di Reggio, due sono rientrati dall'estero e uno è proveniente da fuori regione. Il soggetto positivo rilevato dall'ASP di Cosenza è proveniente da fuori regione. Dall'ultima rivelazione le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 28.590.